L'Europa sta vivendo una crisi senza precedenti, una crisi che coinvolge tante persone e che dura da troppo tempo. L'occasione del voto è un'occasione importante per cercare di cambiare le politiche europee. Cambiarle significa assolutamente riconoscere gli errori del passato. Il rigore e l'austerity ci hanno messo in una situazione diversa da tutti gli altri continenti e purtroppo paghiamo un prezzo, soprattutto i giovani, diverso da quello degli altri continenti. Questo ci dice che è possibile cambiare e che ci sono politiche che possano avere risultati più favorevoli alle persone che lavorano. Per questo è importante usare quel voto e usare il voto è un'intelligenza. Per quanto ci riguarda, qualunque sia il voto che voi vorrete scegliere, il punto fondamentale è non cedere alle lusinghe di chi pensa che tutto sia semplice e tutto si possa risolvere semplicemente gridando, ma portando alla solidarietà e rompendo la spirale di paura e c'è le nostre persone. Solidarietà e lavoro sono il futuro dell'Europa. Comunque sceglierete questo sarà il futuro della nostra organizzazione della CGL.